Cari amici, siamo in compagnia di Irene Grandi, ciao Irene. Ciao, buongiorno. Esordi inizio degli anni 90, prossimi 25 anni di carriera, un bilancio e sei dei rimpianti. Ma sono contenta, sono ancora qua, canto con piacere, ho spesso formazioni che tutti gli anni cambiano, ma con magari dei gruppi di lavoro anche abbastanza lunghi, che durano nel tempo, però magari ci alterniamo per non ripeterci mai. Quindi non so, a volte siamo in quintetto, l'anno scorso per esempio ho fatto una tournée anche con i fiati, per la prima volta ero riuscita a portare i fiati sul palco, tromba e trombone, e invece quest'anno si ritorna in trio, quindi con una formazione, devo dire, ideale per fare un po' di rock. e anche per dare, diciamo, spessore ai testi delle canzoni, perché ultimamente devo dire che così tutto questo confezionamento, tante volte, della musica, diciamo, mette un po' più in secondo piano l'ascolto delle parole, no? Invece, ecco, io che sono spesso un po' contro tendenza, ecco, allora levo un po' di musica per ritornare ad ascoltare. E boom boom, oltre vent'anni fa, ecco, però vedendoti vicino, sembra che per te il tempo non sia mai passato. Qual è il tuo desiderio di lunga vita? Grazie, sei gentile. Provo a avere una vita, diciamo, ultimamente più regolare, nel senso che sto attenta a quello che mangio, prima di tutto, prendo aria fresca, passeggio, non faccio sport violenti, ma faccio yoga. Questo a seguito del viaggio famoso in India del 2010-2011? Sicuramente quello è stato un po' l'inizio di quest'amore che ho provato per questa filosofia di vita, che appunto aiuta anche l'equilibrio psicofisico, diciamo. Non è soltanto probabilmente una questione proprio di curare il fisico, ma proprio anche curare la mente, cercare di evitare i dolori evitabili, stare con se stessi, centrati, non eccedere nelle cose, e cercare di essere felici, di trovare un equilibrio. Ecco, devo dire che quando la tua mente risponde con una certa gioia, con una certa piacere nel fare le cose, credo che uno è nella strada giusta per rimanere giovane. Curiosità, sempre boom boom, batte il cuore boom boom. Hai mai pensato a un duetto, a un disco con Little Tony, a quando ancora era vivo, visto che aveva scritto a cuore matto, magari il tutto basato sul cuore? Ma guarda, mi ti dovevo incontrare prima, sarebbe stata un'idea geniale. Facciamo come Goku, mettiamo le sfere del drago e lo facciamo risuscitare. Magari, mi piacerebbe, mi sarebbe piaciuto, sì, secondo me era azzeccata come cosa. Leggendo alcune tue interviste, tu avevi dichiarato che avevi avuto delle esperienze gay in passato. Riguardo alle unioni civili, cosa pensi, quella appena approvata, e anche riguardo alle adozioni? Ma questa è una domanda difficile perché sono argomenti molto, come dire, importanti comunque. Cioè, sono d'accordo sulle unioni civili, sono assolutamente convinta che le persone debbano avere ogni diritto a esprimere il loro amore, la loro relazione, anche nella legge. Quindi, insomma, credo siamo sulla buona strada. Sulle adozioni, io sono d'accordo nel senso, non approvo quella cosa del bambino che nasce apposta per essere adottato da una coppia che non può avere figli. Cioè, nel senso, l'utero in affitto, queste donne che non so come facciano a usare il loro colpo per mettere a bordo un figliolo e poi darlo via, no? Questa è una cosa che non riesco a capire. Probabilmente dovrei conoscere qualcuno per capire come può fare senza giudicare. Però... Dall'orfanotrofio, sì. Secondo me, insomma, tutto sommato, quando c'è amore, no? No, tutto va bene, nel senso che un bambino, credo che saprebbe distinguere lo stesso, come dire, poi la sua scelta. Ti ringraziamo e se puoi fare un saluto finale al nostro direttore di Trieste Prima. Sì, un bacione a tutti e grazie a voi. Tornate a trovarci presto ai miei concerti. Grazie, ciao.